L'unica cosa che conta è la missione. RPG! Ci siamo portati avanti! L'accia neutralizzata! Eliminato! Mantenete alta la pressione, agente! Assetto! Supporto! UAV in attesa di ordine. UAV in arrivo. Si muove! Il tempo della missione è quasi finito, forza! Colpo fulminante pronto. Confermo! Porto ora sulla vostra posizione. Colpo fulminante alleato in arrivo. Fermo le uccisioni. Il pronto. MQ-27 Dragonfire in azione.